Il salmo 5 viene dopo il salmo 3 e 4, salmo di preghiera al mattino e alla sera. Questo è un salmo di preghiera dal testo considerato al mattino e sistemato quindi nei primissimi salmi del primo libro dei salmi. Un salmo di fiducia, possiamo considerarlo in cinque strofe. Una prima strofa, costruita in modo concentrico, alle mie parole porgi orecchio Signore, comprendi il mio mormorare, sia attento alla voce del mio grido. Al centro dice che si rivolgi a Dio, o mio re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. Conclusione della prima strofa, che riprende il tema dell'inizio, Signore al mattino ascolti la mia voce, porgi l'orecchio, ascolti la mia voce, al mattino mi preparo per te e sto a vedere, sto in attesa. La traduzione è piuttosto letterale. Le altre quattro strofe possiamo considerarle in modo concentrico. È uno dei modi di organizzare questo salmo. La seconda strofa, che nella suddivisione, nel suggerimento di una celebrazione strutturata noi diamo al salmista, all'assemblea stiamo riservando il rapporto più diretto con Dio. Il salmista, la prima strofa, parla dei malvagi in genere. Parlerà dei giusti in genere, l'ultima strofa, mentre le due strofe centrali parlano della situazione del salmista singolo e dei suoi nemici singoli, quindi il rapporto generale di Dio con i giusti alla fine e con i malvagi e in questo rapporto generale il rapporto del personale con il salmista che prega e con i suoi nemici che lo ostacolano. Quindi perché non un Dio che gode della cattiveria sei tu, non tu ospite il malvagio, non resistono gli stolti ai tuoi occhi, agli in odio tutti quanti operano il male, mandi in rovina quanti dicono menzogne, sanguinari e ingannatori, tu detesti il Signore. Poi passa all'aspetto personale. Così nel tuo grande amore entro nella tua casa. Il salmo sembra composto in un momento in cui era ancora possibile entrare nel Tempio perché il Tempio c'era, quindi in un tempo in cui il Tempio non è distrutto. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore. guidami Signore nella tua giustizia, a causa di quanti mi spiano, fai dritta davanti a me la tua strada. E anche nei dettagli vedete che il salmo è costruito secondo un parallelismo concentrico frequente nella poesia orale. Guidami Signore nella tua giustizia, al centro a causa di quanti mi spiano, sono già presenti i nemici, fai dritta davanti a me la tua strada. Guidami Signore nella tua giustizia, fai dritta davanti a me la tua strada, ma nel contesto appunto di difficoltà perché c'è gente che spia la sua strada. La terza strofa diciamo e amplia questo aspetto del versetto centrale dell'ultimo versetto 9 a causa di quanti mi spiano. Perché non c'è sincerità nella loro bocca, il loro cuore è tutto rovine, i sepolcri aperti la loro gola, la loro lingua una lusinga. E anche qui vediamo una costruzione a parallelismo concentrico perché non c'è sincerità sulla loro bocca, la loro lingua una lusinga, è al centro, il loro cuore è tutto rovine, sepolcri aperti la loro gola e non sta parlando in genere, è lui che si sente accusato e quindi accusali o Dio. Quindi c'è una situazione, in questa estrofa c'è una prima descrizione della situazione e una rivolgersi a Dio. Anche qui una descrizione della situazione e qui un rivolgersi a Dio ma tenendo conto dei nemici, accusali o Dio, essi cadranno per le loro trame, nei molti loro delitti scacciali fuori perché sono stati amari con te. Anche qui è una costruzione a parallelismo concentrico, accusali o Dio, sono stati amari contro di te. E quindi c'è una curiosa sovrapposizione tra l'opposizione verso il salmista che diventa un'opposizione verso Dio. Ultima strofa, si va di nuovo sul generale in cui è situata la situazione del singolo e dell'esperienza personale del salmista. Gioiscono tutti quelli che in te si rifugiano, esultano per sempre e tu a difesa sopra di loro, si allietano in te quanti amano il tuo nome. Anche qui vedete una tipica della poesia orale, improvvisano, ma non è un'improvvisazione, è una costruzione a parallelismi. Gioiscono tutti quelli che in te si rifugiano, l'ultimo verso, si allietano in te, esultano per sempre, no, dice, gioiscono tutti quelli che in te si rifugiano e quanti amano il tuo nome, che in te si rifugiano quanti amano il tuo nome. Rifugiarsi nei salmi è abbastanza concreto perché significa entrare nel tempio. Esultano per sempre, si allietano in te e tu a difesa sopra di loro. Perché sei tu che benedici il giusto Signore come il grande scudo di benevolenza lo incoroni. Anche qui una costruzione concentrica, tu benedici di benevolenza lo incoroni e sei come il grande scudo. Cosa succede nel, questo adesso è morto in breve, un primo esperimento diciamo così, il salmo responsoriale dell'ondicesima settimana del tempo dell'anno pari, è un salmo che commenta l'episodio della vigna di Naboth, Naboth che viene eliminato, che viene ucciso dal re Aqab per potersi patronire della sua vigna. Il salmo nella sua costruzione abbastanza diciamo architettonicamente completa viene ridotto ai minimi termini. C'è la prima strofa, la prima strofa che aveva al centro o mio re o mio dio perché a te rivolgo la mia preghiera, ma nella strutturazione della strofa del salmo responsoriale i quattro versetti nascondono in pratica questa costruzione concentrica in cui dio è al centro. E la seconda e la terza strofa del salmo responsoriale sviluppano solo la prima parte, cioè l'aspetto generale del rapporto di dio con i malvagia della verità. E manca tutto l'aspetto dell'esperienza personale e l'aspetto del rapporto con il giusto. Si vede quanto diciamo questa abitudine che abbiamo appreso ormai noi cattolici di ridurre i salmi così ai minimi termini è un modo di impoverire il salmo. Da punto di vista musicale dirà Vittorio il modo con cui lui ha costruito questo salmo, cercando anche di variare mi è sembrato, pur nella riduzione ai minimi termini del salmo, forse questa duplice proposta musicale per le strofe, forse lo chiedo a lui, vuole indicare, lui ha visto forse qualche differenza in questo rapporto di dio con i malvagi. Ma il salmo responsoriale resta molto impoverito. Questo è ciò che succede con ridurre tutti i salmi alla stessa formula dei quattro versi e togliere dei versetti e selezionare e abbandonare la completezza della poesia.